Al termine del video, clicca il link che vedi qui sotto nella descrizione per tutti i dettagli sull'applicazione pratica del metodo. Ciao, mi chiamo Giovanni e oggi voglio condividere con te un'insolita storia di dimagrimento, cioè come ho perso più di 30 kg di grasso non molto tempo fa e come finalmente sono riuscito a vedere i miei addobinali per la prima volta nella mia vita all'età di 40 anni. Come ci sono riuscito? Beh, la maggior parte delle cose che hanno funzionato per me probabilmente non le ho mai lette sulle riviste o sui giornali e scommetto che queste cose funzioneranno anche per te. Devi sapere che io non sono una persona magra di costituzione, infatti sono stato in forte sovrappeso per tanti tanti anni. Poi un giorno ho scoperto che non era colpa mia se ero così grasso e quello è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Ti racconto la mia storia perché probabilmente è molto simile alla tua. Se lotti per perdere peso, vuoi eliminare la pancia e i rotoli di grasso e vuoi degli addominali muscolosi e scolpiti nella roccia, trarai vantaggio da questa storia. Di questo video fino alla fine, ti prometto che non durerà molto, farò molto di più che raccontarti una storia. Ti svelerò la soluzione che ho scoperto e utilizzo ancora oggi. Inoltre questo video non rimarrà online per sempre, quindi per favore guardalo il prima possibile. Se sei mai stato nella mia situazione, probabilmente hai sbattuto la testa contro il muro per anni, forse anche per decenni, solo perché non hai la pancia piatta e gli addominali definiti che desideri da sempre. Ricordo la prima volta che vidi degli addominali scolpiti. Facevo le superiori ed ero nello spogliatoio dopo un allenamento di calcio. Marco aveva un gran fisico, quello che piace a tutte le donne e che ogni uomo vorrebbe. Aveva un bel fisico, ma non avrei mai immaginato che aveva gli addominali scolpiti. erano duri, super tirati e incredibilmente scolpiti. Quella sera sono ritornato a casa con la voglia di fare miglia addominali e li ho fatti davvero e il giorno dopo ero distrutto. Sai come Marco non aveva neanche un filo di grasso sulla pancia, dove la maggior parte degli uomini ha i rotoli di grasso. Lui aveva dei bei muscoli definiti e duri che sembravano intagliati nel marmo e quando indossava la camicia non si vedeva nemmeno l'ombra di un rotolo di grasso sopra la cintura. Ecco qualcosa di molto strano che mi ha colpito veramente tanto. Marco non aveva mai fatto gli addominali. Lui non aveva mai allenato i suoi addominali in palestra. Certo si allenava, ma non l'ho mai visto strafare, tanto meno per i suoi addominali. Anzi, a volte sembrava si allenasse meno di me. Lui continuava a essere magro e scolpito, la mia situazione peggiorava. Passò qualche anno e da una pancetta morbida e da accarezzare, come dicevo per tirarmi su, sono arrivato ad avere una pancia tonda da obeso e 125 kg di peso. Allora mi è tornato in mente la prima volta che vidi gli addominali scolpiti di Marco. E sai cosa mi sono detto? È tutto merito della sua genetica. È merito della sua genetica se è così in gran forma. Lui è nato così. Questa è l'unica possibilità. Questo era quello che ripetevo a me stesso. Sicuramente Marco ha una genetica eccezionale. Nessuno in quello spogliatoio aveva degli addominali come i suoi, ne sono sicuro. Pensavo questo per tirarmi un po' su. Ma stavo solo mentendo a me stesso. Visto che sono una persona onesta, è stato molto, molto difficile ammetterlo. Sul momento non mi ha preoccupato molto il fatto che io mentissi a me stesso. Dopotutto avevo provato molte diete. Avevo fatto per anni gli esercizi per gli addominali. Avevo la coscienza in pace. Io in fondo volevo mettere su solo un po' di muscoli e buttare giù un po' di pancia. Tutto qui. Non miravo ad avere gli addominali scolpiti. Nessun vestito mi stava bene e questo mi faceva sentire a disagio. Evitavo di togliermi la maglia al mare e in piscina. Trovavo mille scuse per non andarci. Però non potevo rifiutare ogni invito. Quindi quando andavo al mare passavo tutto il tempo steso sul lettino a pancia in giù per evitare che mi vedessero. Era molto imbarazzante, mi sentivo molto a disagio. In sostanza ero prigioniero del mio corpo. Forse tutto questo suona familiare a qualcuno che conosci. Forse questo suona familiare a te. Oggi sono una persona diversa. Ho una pancia tonica, piatta e atletica. Riesco a vedere i miei addominali. Tutti quanti. per la prima volta nella mia vita a 40 anni. E vuoi sapere una cosa? La mia genetica è esattamente quella di prima. E fa schifo! Quando ho visto arrivare i risultati sono rimasto scioccato, stupito, decisamente meravigliato visto che dopo anni di tentativi non ci speravo più. Sai come ci sono riuscito? Per prima cosa ho abbracciato l'unica verità per ottenere fisico magro e una pancia piatta con gli addominali scolpiti che quasi nessuno conosce. E i pochi che la conoscono raramente la dicono. Preparati, ti spiazzerà. Eccola. Il miglior modo al mondo per avere una pancia piatta con gli addominali scolpiti è non fare esercizi per addominali. Questo può sembrarti assurdo. Sicuramente qualche esercizio per addominali non ti farà male. Però devi sapere che io ho iniziato a vedere i miei addominali ancora prima di fare un singolo crunch o un qualsiasi altro esercizio per gli addominali. Li ho visti ancora prima di pensare di allenarli. Ecco come stanno le cose. Se alleni direttamente troppo i tuoi addominali, costruirai i muscoli sotto il tuo strato di grasso. Questo è fantastico se vuoi avere uno stomaco ancora più grosso e abbondante. Ma sono sicuro che questo non è il tuo obiettivo. E c'è di più. Allenare direttamente e costantemente gli addominali può condurre il tuo corpo in uno stato che noi chiamiamo sovraallenamento. Il sovraallenamento ti rende svogliato e quindi azzera la tua voglia di allenarti o di andare in palestra. Può anche far crollare del tutto il tuo entusiasmo e il tuo impegno per la dieta. Mandando tutto a rotoli. Forse ora capisci perché ogni volta che hai iniziato ad allenarti o a seguire una dieta, sei ritornato alle vecchie abitudini solo dopo qualche giorno o settimana. Non so, forse sei riuscito a durare anche qualche mese. Esiste una strada migliore per ottenere ciò che vuoi. Ed è straordinariamente veloce. Lascia che ti racconti un'altra breve storia di come degli addominali definiti possano far letteralmente impazzire e suscitare parecchie attenzioni da parte delle donne. Ci vorranno solo 30 secondi. Un paio di anni fa ero in un bar con 6 o 7 vecchi amici del liceo. La maggior parte di loro negli ultimi anni aveva messo su un po' di pancia ed erano decisamente fuori forma. A metà serata abbiamo iniziato a parlare e a scherzare con un gruppo di ragazze giovani e molto carine. Ad un certo punto una delle ragazze più belle del gruppo è uscita fuori dicendomi, tu sei in gran forma, voglio vedere i tuoi addominali. Senza troppi problemi mi alzò la camicia e mi mise una mano direttamente sui miei addominali. Questo incuriosì altre due o tre ragazze che vennero a toccare i miei addominali. Per me è stato imbarazzante, ma ancora di più per i miei amici che al posto degli addominali avevano delle pance da birra. Non fraintendermi, ovviamente per le donne c'è molto altro in un uomo, non c'è solo il corpo, ma posso garantirti, per averlo provato di persona, che tu avrai molte più attenzioni e avanzi da parte delle donne quando hai un corpo atletico e una vita stretta. In soldaggi recenti le donne hanno votato gli addominali come la parte del corpo più attraente e sexy in un uomo. Loro hanno dichiarato che gli addominali sono molto più sexy dei bicipiti e dei pettorali. Quindi gli esercizi che allenano direttamente gli addominali sono la più grande perdita di tempo e il metodo meno efficace se vuoi avere una pancia piatta e gli addominali duri e definiti. Stai con me ancora un minuto, sto per condividere con te quattro segreti molto potenti che ti faranno ottenere la pancia piatta che vuoi. Eccoli qui. Segreto 1. Devi renderti conto che sei circondato tutti i giorni da prodotti spacciati per cibi salutari. In realtà non fanno altro che imbottire sempre di più la tua pancia. Probabilmente stai pensando che i cibi integrali sono ottimi per perdere peso. Oppure sei stato ingannato e pensi che il latte di soia sia una delle cose più salutari che puoi bere. Ripensaci. Questi cibi inevitabilmente aumentano il grasso sulla tua pancia. Fra un minuto ti mostrerò dove puoi trovare i veri cibi che ti aiutano a bruciare il grasso. Segreto 2. Per favore non cadere nella trappola di quelli inutili e strani attrezzi per addominali che vedi nelle televendite. Li ho provati. Non valgono un soldo bucato. Non bruciano assolutamente il grasso addominale. Abbiamo già parlato di come la maggior parte degli esercizi per addominali non sono la via più efficace per avere la pancia piatta. E non farti ingannare dai modelli nelle televendite con il loro corpo perfetto. Io lavoro in questo settore da più di 10 anni e posso dirti che quei modelli con quel corpo muscoloso, magro e scolpito non hanno ottenuto quei risultati grazie a quelle cazzate di attrezzi che si impegnano a venderti. Segreto 3. Nonostante ciò che senti da molti personal trainer e leggi nelle riviste di fitness, non hai bisogno di fare ore e ore di cardio noioso per 4 o 5 giorni alla settimana per riuscire a dimagrire come desideri. Invece, tra una manciata di minuti a partire da adesso, ti darò l'opportunità di accedere ad alcuni annellamenti unici che bruciano veramente il grasso e che sono molto più efficaci del cardio tradizionale. Non so cosa pensi tu, ma a me non mi piace passare ore e ore su un tapirulano o su una cyclette. Segreto 4. Questo è un fatto molto importante che devi assolutamente capire se vuoi risparmiare centinaia o migliaia di euro. Non hai bisogno di quelle false pillole dietetiche bruciagrassi o dei termogenici che non funzionano che trovi nei negozi integratori. Cercano solo di truffarti. Anche se esistono alcuni integratori buoni che aiutano il tuo metabolismo, la maggior parte sono solo uno spreco di soldi. In ogni rivista di fitness vedrai pagine e pagine piene di quei cosiddetti termogenici o bruciagrassi che in realtà non fanno altro che stimolare le tue ghiandole surrenali danneggiandole. Queste pillole non ti aiutano a bruciare i grassi. Infatti possono anche rovinare il tuo corpo e la tua tiroide. Stai lontano da quella merda. Quindi qual è il miglior modo in assoluto per perdere quel grasso testardo che ricopre la tua pancia e avere la pancia piatta e con gli addominali scolpiti? Voglio presentarti un mio caro amico, un esperto professionista di addominali, Mike Geary. Lui è un personal trainer rinomato in tutto il mondo e anche uno specialista in nutrizione certificato. I suoi principi sono stati già collaudati, testati e comprovati da centinaia di migliaia di uomini come me e te. Il programma best seller di Mike si chiama La verità sugli addominali scolpiti ed è esattamente questo. Tutta la verità per ottenere una pancia piatta e gli addominali scolpiti. Infatti ad oggi più di un milione di persone in 163 paesi in tutto il mondo, tra cui oltre 30.000 italiani ad oggi, hanno già utilizzato La verità sugli addominali scolpiti. Io l'ho usato, posso garantirtelo, Mike è un vero affare. E mi ha aiutato ad ottenere il fisico atletico e gli addominali che ho oggi. Dai un'occhiata alla mappa qui sotto. Questa mappa mostra graficamente tutti i clienti di La verità sugli addominali scolpiti, basandoti sul codice postale, solo in Italia. Questo è letteralmente l'unico programma di quel bisogno per ottenere addominali che sembrano intagliati nel marmo e la pancia piatta che vorresti vedere nello specchio di casa tua ogni mattina. E ti rivederò il segreto per continuare a vederla per il resto della tua vita, non per giorni o settimane, ma per decenni. Mike non ti darà allenamenti ridicoli del tipo 5 consigli per una pancia piatta prima dell'estate o diete drastiche impossibili da seguire. Infatti ti mostrerà quei piccoli accorgimenti che fanno veramente la differenza, facile da inserire nella vita di tutti i giorni, che ti consentiranno di buttare giù la pancia e essere in forma per sempre, quasi senza accorgertene. Ti guiderò all'interno del programma di Mike tra un minuto, ma prima voglio condividere con te le esperienze di altre persone. Luigi Abozzi, Italia. Non smetterò mai di ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato. Veramente è un modo di vivere sano, sono dimagrito subito di 9 kg senza sacrifici, sono più forte e mi sento più giovane. Avrei voluto conoscere dieci anni fa tutto quello che sto imparando ora. Il libro l'ho letto più volte e continuo a leggere. Mi fa sempre piacere ricevere le tue mail. Grazie ancora. Ciao, sono Adriano. Circa due settimane fa ho acquistato il tuo libro online e sto seguendo il tuo programma di alimentazione. I risultati sono veramente sorprendenti. Ho perso già due chili, la pancetta si è sgonfiata e ho stretto di due fuori la cintura dei pantaloni. Non ancora ho cominciato il programma di allenamenti che comincerò quanto prima, ma volevo dirti che ora non ho più mal di testa, non sento più erozia alle orecchie che avvertivo al risveglio il mattino sono proprio felice e quindi ti ringrazio. Saluti Adriano Barcolari. Abito a Treviso, Veneto, Italia. Mario, pesavo 100 kg, ma dopo aver letto il tuo libro e averlo messo in pratica sono arrivato a 74 kg. Ora mangio 4000 calorie al giorno e non metto su nemmeno un grammo di grasso. Ciao Mike, ho ordinato il tuo libro a ottobre dell'anno scorso, il mio peso era 100 kg. Ho letto il tuo libro tutto in un fiato, da cima a fondo e l'ho trovato estremamente interessante. Il giorno dopo ho iniziato gli allenamenti e da quel momento in poi tutto è cambiato. Mi sento in perfetta forma tutta la giornata, non sono più stanco e anche fisicamente sto molto meglio. Nel frattempo ho raggiunto i 74 kg. Il grasso è sparito e ora posso mangiare 4000 calorie al giorno senza mettere su un solo grammo di grasso. È fantastico perché sono riuscito a buttare via tutto quel grasso senza sentirmi a dieta grazie al tuo programma di esercizi e alla tua alimentazione. Con questo messaggio vorrei ringraziarti ufficialmente. In attesa di una tua cortesia risposta, i miei più cari saluti. Mario R. Austria. Aggiornamento. Ciao Mike, come promesso mi rifaccio vivo con te dopo più di un anno di allenamenti molto motivanti. Vorrei ringraziarti ancora una volta per i tuoi suggerimenti, sono stati davvero straordinari. Mi alleno sempre a casa o con il mio compagno di allenamenti. Il tuo libro ha modificato profondamente la mia prospettiva sulla vita. Come effetti collaterali inaspettati ho smesso completamente di bere e per di più ho anche smesso di fumare. Ecco altre storie di successo di persone provenienti da tutto il mondo. Ciao Mike, grazie per la verità sugli addominali scolpiti. L'ho usato per circa 5 mesi quest'anno e ho ottenuto ottimi risultati. Ti ho legato le mie foto per vedere i progressi che ho fatto finora. Comunque il mio grasso corporeo è tra il 7 e l'8%, ho perso già 7-8 cm dal mio girovita per un totale di 24 kg e ho finalmente gli addominali ben visibili che sognavo. Un sacco di gente mi chiede quali integratori dimagranti ho utilizzato e tutti si stupiscono molto quando dico loro di dimenticarsi tutti gli integratori e comprare il tuo libro. Grazie tante. John Howlett, presidente Healthy Sunshine Inc. Storia di successo. Lift Carney, Austria. Ciao. Erano mesi che volevo acquistare il tuo libro. Mi dicevo, lo compro il prossimo mese, con la prossima paga, al prossimo stipendio. Infine un mio caro amico, stufo del mio rimandare, me l'ha regalato. Ho iniziato il programma il 5 di febbraio, appena dopo Natale, in cui ho raggiunto il mio peso massimo. È il 18 luglio e sono ancora abbastanza grasso. Quindi ho pensato di inviarti una mia foto per mostrarti i risultati che ho ottenuto finora. Il programma è veramente geniale. Prima di iniziare il tuo programma, correvo regolarmente e mi allenavo con i pesi occasionalmente, ma continuavo ad ingrassare. Non mi ero reso conto di quanto fossi grasso fino a quando un mio amico mi ha mostrato una mia foto in costume al mare. Sono rimasto inorridito. Era arrivato il momento di fare qualcosa sul serio. Tutto è cambiato quando ho iniziato a leggere il tuo libro La verità sugli addominali scolpiti. Nei sei mesi in cui ho seguito il tuo programma ho perso 25,4 kg e la mia percentuale di grasso corporeo è passata da 30 a 11%. Grazie Mike. Sono talmente soddisfatto che ho raccomandato il tuo libro ai miei amici in sovrappeso, che ho allegato alle mie foto. Aggiornamento sui risultati di Leaf. Come puoi vedere dalla terza foto qui sopra, Leaf ha perso ancora molto grasso negli ultimi 4 mesi e i suoi addominali sono ben visibili ora. Questo è un esempio di come puoi modificare il tuo corpo se seguirai le informazioni del mio libro. Ottimo lavoro Leaf. Storia di successo Mike Castaneda. Mike, volevo ringraziarti per tutti i tuoi consigli e per la motivazione che hai condiviso con me nel tuo libro e nel tuo sito. Mi sento benissimo. L'altro giorno a una riunione di famiglia i miei parenti e i miei amici mi hanno fatto molti complimenti. Mi hanno detto che mi hanno visto molto meglio e mi hanno chiesto cosa stavo facendo per essere così in forma. Mi sono allenato per circa due anni e mezzo ma non riuscivo proprio a perdere quegli ultimi 10 chili in più. Così ho cominciato a seguire ogni tuo consiglio e infine recentemente li ho persi quasi tutti. Ho 38 anni e ora la mia vita misura solo 81 centimetri. Mi sono impegnato tanto e servita tantissima disciplina ma mi ha aiutato a raggiungere il mio obiettivo. Uno di miei cugini appena mi ha visto non smetteva più di dire wow wow. Grazie mille. Mike Castaneda. Storia di successo. Alex Miller dal Regno Unito. Fino a circa due anni fa mi allenavo molto intensamente. Cardio e sollevamento pesi in palestra tre o quattro volte a settimana ogni volta per due ore o più. Sono diventato più forte e la mia corsa è migliorata molto ma non sono mai riuscito a bruciare il mio grasso. Non importa quanto duramente ci ho provato. Poi ho scoperto online la verità sugli addominali scolpiti e il autore Mike Geary. In quel momento tutto è cambiato. Ho cambiato completamente il mio programma di allenamento e iniziato a seguire il suo stile e i suoi insoliti allenamenti con i pesi che sono incredibili tra l'altro. Ora passo la metà del tempo in palestra tre volte a settimana per circa un'ora e ho ottenuto risultati cinque volte migliori. Ora il mio grasso corporeo è dell'8,7% mentre due anni fa era 14-15%. A un certo punto sono arrivato a pesare 92 kg. Oggi ne peso 76 e non sono mai stato così in forma. Grazie mille Mike. Alex Miller, UK. Aggiornamento su Alex. La terza foto qui sopra è quella più recente che Alex mi ha mandato e come puoi vedere ha fatto dei miglioramenti ancora più straordinari. Complimenti Alex. Ecco alcune cose che imparerai dal programma di Mike. Pagina 42. 13 cibi che combattono il grasso della pancia, oltre alla tipica frutta e verdura. Alcuni di questi cibi brucia grassi ti sorprenderanno. Pagina 5. Il sistema in sei passi che è più importante di qualsiasi allenamento o dieta. Questo manterrà sempre alta la tua motivazione e ti guiderà con successo verso il tuo nuovo fitness lifestyle. Pagina 7. Un curioso trucco che ho imparato e che ha trasformato totalmente il mio modo di pensare riguardo al cibo spazzatura. Io avevo sempre voglia di mangiare il cibo spazzatura ed era molto difficile per me mangiare i cibi salutari. Ma ora, dopo aver imparato questo trucco, scelgo automaticamente i cibi salutari, li apprezzo e mi digusto molto più del cibo del fast food. Sezione 4.0. 5 cibi che la maggior parte delle persone ritiene salutari ma che in realtà sono accumulagrassi e stanno solo sabotando e rendono umani tutti i tuoi sforzi per dimagrire. Ti allontanano sempre in più dal corpo magro che desideri con tutte le tue forze. Certo, tu pensi siano alimenti salutari, ma Mike ti dimostrerà al contrario. Che tu ci creda o no, mangi questi cibi ogni giorno e eliminandoli rimarrai sorpreso vedendo quanto velocemente sparerà il tuo grasso addominale. Pagina 93. Come imparare ad essere creativo e cambiare la tua mentalità riguardo agli allenamenti. Questa è la chiave per non annoiarti mai e rimanere motivato allenamento dopo allenamento, mentre tutti gli altri uomini si chiedono perché il loro corpo sia uguale o peggiore dell'anno precedente. Pagina 29. Un fantastico trucco nutrizionale che comunica al tuo corpo che non stai morendo di fame e che tiene sempre alto il tuo metabolismo. In questo modo brucerai il grasso costantemente per tutta la giornata. Pagina 114. Rimarrai scioccato. Scoprirai un tipo di grasso saturo che fa molto bene al tuo corpo e che può aiutare a sostenere il metabolismo dei grassi per bruciarli più velocemente. Pagina 114. Scoprirai le armi segrete, esercizi speciali che renderanno il tuo addome piatto e muscoloso come quello dei modelli. Innescheranno nel tuo corpo un meccanismo bruciagrassi come nessun altro esercizio è in grado di fare. E il bello è che nessuno in una normale palestra li conosce. Questi non sono normali esercizi per addominali. Ecco la cosa veramente fantastica. Non devi aspettare più di un minuto per avere il rivoluzionario sistema di Mike. Infatti lo avrai fra pochi secondi. Avrai l'accesso istantaneo all'intero programma La Verità sugli addominali scolpiti tra circa 30 secondi. Fantastico vero? E c'è di più. Mike per un tempo limitato con il programma completo La Verità sugli addominali scolpiti ha deciso di regalarti anche 3 incredibili bonus. Controlla tu stesso. Bonus 1. Turborex Training. Dimagrisci velocemente a casa tua senza andare in palestra. Di Craig Ballantyne. Personal trainer famoso in tutto il mondo. Si tratta di un sistema super efficace per la perdita di grasso che utilizza speciali combinazioni di esercizi a corpo libero ed esercizi con i manubri per garantirti risultati veloci e soddisfacenti nel breve periodo di 8 settimane. Ottimo allenamento da fare a casa tua. Questo libro vale da solo 24,95 euro. Ma oggi lo riceverai gratuitamente con il programma la verità sugli addominali scolpiti. Bonus 2. 72 pasti bruciagrassi, mangia sazietà, mangia bene e dimagrisci. Come mangiare e avere il corpo magro, tonico e muscoloso che hai sempre sognato. Con questo speciale bonus avrai a disposizione ben 72 pasti bruciagrassi, facili da preparare e gustosissimi, che ti regaleranno il corpo magro, muscoloso e sano che hai sempre desiderato. Tutte le ricette sono costituite da alimenti sani e nutrienti che stimolano il metabolismo e aiutano a bruciare i grassi automaticamente. Troverai alimenti che hai sempre ritenuto grassi ma che invece sono ottimi per dimagrire. I pasti sono estremamente equilibrati e molto gustosi. Grazie a queste ricette capirai finalmente che non devi morire di fame per avere il corpo che hai sempre sognato, anzi. Bonus gratuito 3. The Diet Solution. Basta con la dieta. Inizia a mangiare e comincia a vivere. Isabel de los Rios, personal trainer ed esperta in nutrizione olistica, ti rivela cosa devi mangiare esattamente per bruciare il grasso addominale. Scopri subito i suoi 12 segreti per avere il corpo perfetto che sogni da tanto tempo. I 12 segreti di Isabel sono basati sulle più recenti ricerche in campo di sana nutrizione, offrendo così un approccio rivoluzionario per un'alimentazione ottimale, tanta energia e una vita sana, equilibrata e di alta qualità. Basta con la dieta. Clicca il link che vedi qui sotto nella descrizione per tutti i dettagli sull'applicazione pratica del metodo. E quello è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Ti racconto la mia storia perché probabilmente è molto simile alla tua. Se lotti per perdere peso, vuoi eliminare la pancia, i rotoli di grasso e vuoi degli addominali muscolosi e scolpiti nella roccia, trarai vantaggio da questa storia. Di questo video fino alla fine, ti prometto che non durerà molto, farò molto di più che raccontarti una storia. Ti svelerò la soluzione che ho scoperto e utilizzo ancora oggi. Inoltre questo video non rimarrà online per sempre quindi per favore guardalo il prima possibile. Se sei mai stato nella mia situazione probabilmente hai sbattuto la testa contro il muro per anni, forse anche per decenni, solo perché non hai la pancia piatta e gli addominali definiti che desideri da sempre. Ricordo la prima volta che vedi degli addominali scolpiti. Facevo le superiori ed ero nello spettacolo. Al termine del video, clicca il link che vedi qui sotto nella descrizione per tutti i dettagli sull'applicazione pratica del metodo. Ciao, mi chiamo Giovanni e oggi voglio condividere con te un'insolita storia di dimagrimento, cioè come ho perso più di 30 kg di grasso non molto tempo fa e come finalmente sono riuscito a vedere i miei addominali per la prima volta nella mia vita all'età di 40 anni. Come ci sono riuscito? Beh, la maggior parte delle cose che hanno funzionato per me probabilmente non le ho mai lette sulle riviste o sui giornali e scommetto che queste cose funzioneranno anche per te. Devi sapere che io non sono una persona magra di costituzione, infatti sono stato in forte sovrappeso per tanti tanti anni. Poi in un giorno ho scoperto che non era colpa mia se ero così grasso. Io tolgo dopo un allenamento di calcio. Marco aveva un gran fisico, quello che piace a tutte le donne e che ogni uomo vorrebbe. Aveva un bel fisico ma non avrei mai immaginato che aveva gli addominali scolpiti. Erano duri, super tirati e incredibilmente scolpiti. Quella sera sono ritornato a casa con la voglia di fare mille addominali. E li ho fatti davvero e il giorno dopo ero distrutto. Sai come Marco non aveva neanche un filo di grasso sulla pancia, dove la maggior parte degli uomini ha i rotoli di grasso. Lui aveva dei bei muscoli definiti e duri che sembravano intagliati nel marmo. E quando indossava la camicia non si vedeva nemmeno l'ombra di un rotolo di grasso sopra la cintura. Ecco qualcosa di molto strano che mi ha colpito veramente tanto. Sicuramente Marco ha una genetica eccezionale. Nessuno in quello spogliatoio aveva degli addominali come i suoi, ne sono sicuro. Pensavo questo per tirarmi un po' su. Ma stavo solo mentendo a me stesso. Visto che sono una persona onesta è stato molto molto difficile ammetterlo. Sul momento non mi ha preoccupato molto il fatto che io mentissi a me stesso. Dopotutto avevo provato molte diete. Avevo fatto per anni gli esercizi per gli addominali. Avevo la coscienza in pace. Io in fondo volevo mettere su solo un po' di muscoli e buttare giù un po' di pancia. Tutto qui. Non miravo ad avere gli addominali scolpiti. Nessun vestito mi stava bene e questo mi faceva sentire a disagio. Evitavo di togliermi la maglia al mare e in piscina. Trovavo mille scuse per non andarci. Però non potevo rifiutare ogni invito. Quindi quando andavo non aveva mai fatto gli addominali. Lui non aveva mai allenato i suoi addominali in palestra. Certo si allenava ma non l'ho mai visto strafare tanto meno per i suoi addominali. Anzi a volte sembrava si allenasse meno di me. Lui continuava a essere magro e scolpito. La mia situazione peggiorava. Passò qualche anno e da una pancetta morbida e da accarezzare come dicevo per tirarmi su sono arrivato ad avere una pancia tonda da obeso e 125 kg di peso. Allora mi è tornata in mente la prima volta che vedi gli addominali scolpiti di Marco. E sai cosa mi sono detto? E' tutto merito della sua genetica. E' merito della sua genetica se è così in gran forma. Lui è nato così. Questa è l'unica possibilità. Questo era quello che ripetevo a me stesso.